La Regione garantisca adeguato supporto alla struttura commissariale e a potenziare adeguatamente alla struttura regionale deputata alla sanità che risulterebbe particolarmente carente. E' uno dei principali richiami contenuti nel verbale dell'ultima riunione del tavolo a duce svoltasi lo scorso 21 novembre. Il soggetto tecnico incaricato della verifica sugli adempimenti legati al piano di rientro dal deficit sanitario e sul rispetto dei livelli essenziali di assistenza LEA. Un ritardo nel supporto necessario all'azione commissariale, aggiungono i tecnici, non può che ripercuotersi significativamente sull'intera Calabria. Altro elemento importante del verbale è la scomparsa dei richiami presenti invece nel precedente documento che risale allo scorso luglio alle procedure per l'eventuale sostituzione del commissario Massimo Scura, presenti invece riferimenti al fatto che sembrerebbe profilarsi un disavanzo sull'anno 2017, ricompreso nell'intervallo tra 104 e 153 milioni di euro, non coerente con le coperture preordinate dal piano di rientro pari a 100 milioni di euro. Se tale proiezione dovesse confermarsi, si presenterebbero le condizioni per l'ulteriore aumento delle aliquote fiscali dello 0,15% e dello 0,30% rispettivamente di IRAP e addizionale IRPEF, oltre che il blocco totale del turnover del personale e il blocco dei trasferimenti non obbligatori del bilancio regionale fino all'anno successivo. Su questo fronte Scura chiarisce di aver già risposto al tavolo a duce.